Il Riccardo del futuro decide di irrompere, ovviamente sciogliendo tutte le fila del discorso che non ha fatto, perché credo che la domanda che stiamo per leggere sia talmente semplice nella sua bellezza, che vada inserita per primo. Lu mi chiede come stai? Ci sarebbe da fare un video solo sulla domanda come stai, ma ve lo evito. Ho aspettato a fare questo video proprio perché ho letto la domanda e ho voluto che mi trovassi al meglio possibile delle mie possibilità. Da ieri posso di nuovo scendere di casa, finalmente mi sento molto meglio, ho avviato tanti progetti di cui magari in parte vi parlerò in altri video, quindi mi sento molto meglio rispetto anche solo a due giorni fa. Grazie. Bellissima domanda. Che musica ascolti? Non ho un genere. Non ho un genere. Posso dirti alcune cose. Un giorno potrei aver voglia di ascoltare Cristina D'Avena, un altro giorno potrei aver voglia di ascoltare Iguin, un altro giorno potrei aver voglia di spararmi mille puntate di Britain's Got Talent, Italia's Got Talent, America's Got Talent, quindi basta di tutto e di più. Serie preferita? Io penso sempre di non aver mai visto una serie preferita rispetto a un'altra. Visto che ne devo vedere ancora tante, ma in questo momento ti rispondo di lì. Ma salve a tutti anime colorate e benvenuti in questo nuovo video. Vi preannuncio che sarà molto facile che questo video sia diviso in due parti, non compresi i tagli, perché fortunatamente sono arrivate molte domande e di questo ringrazio anticipatamente tutti i partecipanti. Vi ricordo se non siete iscritti che potete iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere alcun video, abbonarvi. Se volete, al costo di 4,99€, al primo abbonato partiranno i video riservati, che potrete chiedere in qualsiasi giorno della settimana. Potete inoltre mettere like, cliccare sulle pubblicità o inviare un grazie del valore di 10€. Visto che l'argomento genera dissapori, vi avviso che in questo video sarà affrontato il tema del Covid-19. dal lato del mio personalissimo punto di vista, che esporrò senza censure, più o meno. Quindi se non siete in grado di rispettare opinioni diverse, vi invito a chiudere il video. Dunque, partiamo con le domande per coloro che quali sono rimasti. Sara mi chiede, qual è il luogo in cui non sei mai stato o vorresti visitare? Sono stato pochissimo all'estero e visto che ho studiato tre lingue che però non incontrano purtroppo molta pratica, mio malgrado, sicuramente andrei una volta in Inghilterra, una volta in Francia e una volta in Spagna, perché, anche se sono stato tanti anni a Lourdes quando ero credente, Lourdes è un posto di pellegrini e di francesi ce ne sono ben pochi, credetemi. Poi vorrei visitare gli studios di Harry Potter a Watford, magari nello stesso viaggio che riguarderà Harry Potter, Olanda, Amsterdam, e dai facciamo basta perché già il video sarà lungo. Seconda domanda, qual era la tua materia preferita quando andavi a scuola? Io ero più importato per le materie umanistiche, però c'è da dire che mi faceva piacere fare i temi in italiano soltanto quando avevo qualcosa da dire, al contrario odiavo le tracce imposte perché mi annoio a scrivere se non ho da dire qualcosa. Inoltre, tra le lingue mi piace di più l'inglese e lo spagnolo, anche se ho studiato francese e anche se il mio accento soprattutto in francese è orribilmente italiano, secondo me. Numero 3. Ormai dobbiamo accettare di convivere con il Covid, escludendo le questioni politiche e sociali di massa. Tu come stai vivendo a livello di emozioni individuali in questo periodo di pandemia? In realtà, carissima Sara, io penso che tante persone non convivono con il Covid. Mi spiego. Per me convivere con il Covid significa anzitutto stare sia attenti, però senza rinunciare a vivere, senza rinunciare al contatto fisico, senza rinunciare ai viaggi. Capisco la remora di non abbracciare magari uno sconosciuto, ma arrivare a non vedere i propri cari, ad escludere parenti dalla propria vita solo perché magari questi parenti hanno scelto consapevolmente di non vaccinarsi. Lo trovo veramente una cosa incommentabile fuori dal mondo e che ricorda periodi storici bui da cui pensavamo di essere usciti. Se la sto vivendo male, dici perché la vivi male? Hai paura del Covid? No. Perché la paura è secondo me il sistema esattamente adatto per attirare quello di cui abbiamo paura. Poi certo non è che non ho paura di niente, ci sono paure che non posso evitare, ma tra queste non c'è il Covid. Se mi ammalerò vuol dire che doveva succedere, averne paura non ha senso, anzi ripeto forse attirerà di più la questione. Quindi la vivo male perché? Perché ormai i rapporti dipendono quasi esclusivamente da come la si pensa sul Covid. Non si rispetta più l'opinione degli altri ed è per questo che ho messo gli avvisi all'inizio video. Siamo al punto che sulle chat di incontro che tu hai la fortuna di non frequentare, si scrive vaccinato a tre dosi, vaccinato con il nome del vaccino davanti, come se la gente sapesse quello che c'è dentro. Non lo sappiamo, anzi non è un vaccino ma un siero sperimentale ed è uno dei motivi per cui quando io sono stato obbligato le circostanze a vaccinarmi non ero nemmeno consenziente né contento, cioè non ero consenziente nel senso nei confronti di quelli che sono al momento i decreti e le restrizioni tra chi ha il pass verde e chi non ce l'ha. Il mio amico Grizzly mi chiede, hai un colore preferito, un colore che ti fa sentire bene, ti fa sorridere o in generale trovi funzionale, magari ti piace avere addosso qualcosa di quello specifico colore, iniziamo, poi ce ne sono altri. Allora, si dice che il rosso sia il colore antimalocchio, quindi nel dubbio io sono sempre contento di indossare il rosso. Mi vedo molto bene il giallo e l'arancione per ovvi motivi, però devo dire anche che mi piace molto indossare bianco e nero ma anche se il bianco per le persone sulla sede a rotelle è il male, perché di solito le ruote sono ad altezza braccia per permettere di spingersi in autonomia e di conseguenza i vestiti bianchi si sporcano. Si sporca, il mio è purtroppo anche la bellissima felpa che mi hai regalato, di cui se trovo qui metto una foto perché ha le parti bianche ma è bellissima, quindi chi se ne frega? E viceversa, c'è un colore che non ti piace per niente? Ci vuoi raccontare magari una storia legata ad uno o entrambi? Non mi vengono in mente storie legate ai colori, scusami tesoro, però mi faccio perdonare rispondendo alle altre domande. Animali domestici, più se ne hanno meglio è? Oppure monorazza, è puntare ad avere un esercito di cani o gatti. C'è un animale particolare o che ti incuriosisce e ti piacerebbe avere in casa, a parte i classici cani, gatti o grigeti. Quindi intendo quelli più inattesi, tipo cincilla, gerbillo, puretto, pitone, anaconda, magica, gigante. Oppure è meglio avere un solo animale per via dell'impegno e delle responsabilità che richiede. Io ho molte dimostrazioni indirette che la storica rivalità tra cane e gatto è quasi una leggenda metropolitana. Per quanto riguarda l'animale che mi piacerebbe avere, se non ci fosse quello che dirò tra poco, purtroppo non è niente di speciale rispetto a quello che ti aspettavi, mi dispiace. E' proprio un gatto nero oppure bianco, con gli occhi rosa sarebbe il massimo, però, qualora si presentasse l'occasione, occasione che spiegherò dopo, non è che dico no, ma questo è rosso, mi fa schifo, ne voglio uno bianco, no. Come la penso io sugli animali? Il problema non è secondo me l'impegno, ma il mercato. Mi spiego. Capisco che non a tutti possono piacere, però, se io fossi un albergatore e capissi qualcosa di mercato, di come funziona il mercato, di come funziona la fidelizzazione dei clienti, preferirei spendere più soldi per un giardino, un'aria cani, delle ciotole dell'acqua, tutto quello che volete e che può venire in mente per permettere ai, dico padroni anche se non mi piace la parola, padroni di ospitare i propri amici a quattro zampe. Perché questo? Perché non ci si può lamentare che gli animali non vengano adattati, che siano uno, due o tre, taglia grande e taglia piccola, quando non si permette di far fare un passo alle persone senza dover lasciare i propri animali nella pensione per cani, gatti e altri animali. Tra l'altro, correggetemi se sbaglio e ditemi se è cambiato qualcosa, mi pare di ricordare che qualora si decidesse di viaggiare con il proprio cane, oltre al sovrapprezzo, che mi pare giusto, ok? Sono d'accordo che il cane debba pagare una quota, però oltre al sovrapprezzo io ho letto che il cane deve soggiornare, se così si può dire, nella stiva. E' una cosa che mi dispiace ma non condivido, perché sarebbe come se si chiedesse a noi di fare il viaggio in un bagagliaio chiusi con il buco per respirare. E' la stessa cosa, non cambia assolutamente niente. Quindi, qualcuno mi dica se questo scempio è terminato, per favore, perché io non lo so e non la vorrei vedere come informazione certa, non sono sicuro. Bene amici, si conclude qui la prima parte del video, la seconda parte, penso che se riesco arriverà a Verdi, oppure Lunedì, e sarà un pochino più lunga di questa, non di tanto, diciamo 5 o 6 minuti in più. Ovviamente la inserirò, poi anche in questo video quando sarà pubblicata, mi raccomando non perdetevela perché ci sono delle domande molto interessanti. Alla prossima, ciao! Ciao!